buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi sto qui per parlarti di un audio mp3 dcs dal titolo no influenze da amici e parenti tu puoi avere la super forza la super voglia di fare le cose come dice la tua testa senza farsi influenzare negativamente da amici e parenti scaricati quest'auto mp3 dicesse molto potente naturale un vero e proprio capolavoro che proviene dall'arte ipnotica vera e professionale con la v maiuscola di los angeles baby hills e che il sottoscritto all'onore di presentarti in anteprima su questi schermi sono soltanto parole semplici trasparenti pulite naturali però parole create ad arte ad hoc intrise di un antico sapere che sfiorano quasi un secolo e che provengono direttamente dalle los angeles baby hills dalla mia associazione ipnoleggi associati da due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale la dottoressa lina per il professor dottor michel angeli grime maestri mentre mi associati ho messo un 30 40 per cento ti posso garantire perché sono l'unico caso al mondo si prodizza h24 da più di 12 anni del 2008 ad oggi ti posso garantire che se tu ti scarichi quest'audio mp3 dcs ti sentirai la persona più forte e più sicura con un'autostima incredibile libera dai condizionamenti dei parenti familiari amici che si condizionano in ogni tuo passo e tu a bocchio ogni volta che senti la parola di uno oppure di un altro o di un'altra in quest'audio mp3 dicesi diventerai giorno dopo giorno sempre più forte e sicuro inoltre il metodo dicesse non ti ruba tempo non ruba tempo ai tuo caro ai tuoi cari perché è l'unico metodo dicesse di prosi dicesse con la b maiuscola vera e professionale che può essere utilizzato anche per le persone che non vogliono essere aiutate perché non posso essere aiutate non si usano gli auricolari non ti impegna non ti stressa non esiste nessuna forma di manipolazione esiste nessun effetto collaterale decidi idee di scaricarti quest'audio mp3 dicesse dal titolo no influenza negative di amici e parenti direttamente da qualsiasi parte del mondo in cui risiedi anche al polo nord oppure in mezzo al mare all'oceano e godere di questa energia potente che ha cambiato anche la mia vita nel lontano 2008 io sono l'unico caso al mondo ragazzi si prodizza h24 da più di 12 anni anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra e ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo sbalordendo il sottoscritto meravigliandomi personalmente ogni volta notando dei risultati incredibili perché il miracolo della mente lo può fare soltanto il suo subcosciente che le mie parole fanno soltanto da guida ma il miracolo fa la tua mente potente approfitta scarica giù su vedi un po perché non non è sottoscritto a gestire gli audio mp3 dicesse e quindi è meravigliati meravigliati del potere della tua mente meravigliati di questo potere perché può decidere restare come se farti manipolare da amici e parenti oppure decidere che la tua vita merita molto di più ok a te soltanto la scelta fammi tutte le domande il caso visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi 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 del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso il dottor claudio saracino e facer condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao